Buongiorno, in questo video parleremo della rinascita psicologica. Seguendo una concezione orientale, che è anche una concezione psicologica, possiamo affermare che ognuno di noi deve confrontarsi con un particolare problema, un particolare disagio psichico. Lo scopo però di questo disagio, sia esso ansia, depressione, tristezza, insonnia, un qualunque malessere psicosomatico. Ebbene, questi disagi hanno tutti uno scopo. Al di là della sofferenza, lo scopo è quello di aprirci nuovi orizzonti, è quello di allargare la nostra visione del mondo. In un secondo momento, lo scopo è quello di risvegliarci e farci intuire ciò che siamo veramente. Si tratta di un viaggio nel mondo dell'anima, un viaggio nella psiche, che trova la sua giustificazione non tanto nella meta raggiunta, ma nello stesso percorso. Il percorso è fatto di angoscia, di paura, paura del nuovo, paura di fallire, paura del cambiamento. Il primo cambiamento che ci viene richiesto è un cambiamento di prospettiva. Quindi significa iniziare a guardare alla nostra vita quotidiana accogliendo i conflitti, valorizzando ciò che stiamo vivendo, per sacrificare alcuni aspetti della nostra personalità e permettere quindi un'apertura al nuovo, una rinascita. La vecchia personalità va sacrificata, il che significa apertura del guscio narcisistico, allenare l'io ad uscire da se stesso per abbracciare nuove visioni, abbandonare tutto ciò che di stabile e di sicuro l'io ha raggiunto, perché ormai questi contenuti non alimentano più la nostra anima. Abbiamo bisogno di esplorare le nuove possibilità di una vita più autentica, che sia davvero nostra. Gibran suggerisce un concetto. Dice, interrogo la tristezza e scopro che non ha il dono della parola. Eppure, se potesse, sono convinto che pronuncerebbe una parola più dolce della gioia. Si va in psicoterapia per dare parole, parole nuove, parole dell'anima al disagio. Tuttavia, la strada dell'analisi, la strada della psicoterapia è la parola, è la simbolizzazione, una parola allusiva, simbolica, poetica. Però c'è da tenere presente che il simbolo è per sua natura insoddisfatto. non dice tutto, non soddisfa l'io, la persona. La coscienza stessa è sempre un po' insoddisfatta. Lacan addirittura arriva a sostenere che tutto il linguaggio è limitato e ci sono cose indicibili. Ma, di fronte all'enigma, noi dobbiamo sentire di essere curiosi. L'enigma ci istiga, ci spinge ad interpretare. E la psicanalisi cos'è? Non è altro che il rito della parola. La psicanalisi, a detta di Freud, è una lotta del pensiero. Però, l'insoddisfazione resta ed è il perno dell'analisi psicologica. perché il parlare è insoddisfatto, come il pensiero, come il simbolo, che è sempre mancante di qualcos'altro. E allora, chi fa terapia psicologica, cioè terapeuta e paziente, devono entrare in una partecipazione affettiva. Non devono soltanto elaborare razionalmente, attraverso le parole, la logica, ma devono entrare in un mondo allusivo e poetico, affettivo, che appartiene ai moti dell'anima. La terapia si conclude quando colgo il legame tra eros e anima. Quando capisco che sto cercando l'eros per la mia anima, dice Ilman, e sto cercando l'anima per il mio eros. Ora, se è vero che noi conosciamo il mondo attraverso il sentimento, attraverso l'amore, se è vero che l'amore è una forma di conoscenza, allora abbiamo bisogno di lasciare che l'affetto accada, rimanendo aperti all'inatteso, al nuovo, al cambiamento, rimanendo aperti, come diceva Socrate, allo stupore, alla meraviglia, alla compartecipazione affettiva. Se proprio vogliamo misurare la verità della nostra vita, il significato della nostra vita, dobbiamo dare valore agli affetti e quindi dobbiamo dare valore alla vita degli altri. Questo sarebbe un atteggiamento oblativo di cui ha parlato Freud. Chi è che dà valore alla vita degli altri? Chi è che vive nella poesia, nel simbolo? La personalità creativa, sicuramente. La persona creativa conserva una certa facilità di accesso alle immagini, alla metafora, alle forme connesse al processo primario, cioè all'inconscio. L'inconscio. La creatività diventa quindi una risposta ampia da dare al dolore e al vuoto. Perché la creatività consente di modificare la propria storia nutrendosi del conflitto, nutrendosi della polarità della vita stessa. Male bene, bianco e nero. Non a caso si dice che le contraddizioni generino i sogni e i sogni sono arte poetica involontaria. Ecco perché è di fondamentale importanza che il paziente riattivi la sua capacità immaginativa, che gli consente di avere un rapporto più profondo con il proprio inconscio e da lì nutre la sua capacità di essere creativo. Per approfondire questo tema molto vasto vi rinvio ad una playlist dedicata alla creatività e all'autorealizzazione che troverete nel mio canale YouTube Roberto Ruga è psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online. Per richiedere una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 1692 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome, cognome e orari preferiti. Se volete leggere i miei libri lo potete fare solo su Amazon. Buona giornata.